Novità dal mondo MAPEX La nuova serie Voyager rimpiazza ufficialmente la serie Q si tratta di una batteria in tiglio con hardware Asta dritta per piatto L'hardware comprende la possibilità di montare un piatto ulteriore incastrandolo nel supporto per i Tom La nuova serie Voyager rimpiazza la serie QR La nuova serie Horizon rimpiazza la serie QR si tratta di una batteria sempre in tiglio sempre comprensiva di supporti L'hardware è l'hardware ITS hardware sospeso che quindi consente un minor apporto delle vibrazioni al sound complessivo della batteria doppia asta e sempre la possibilità di montare una terza asta nel supporto centrale incluso nel rack dei Tom Sempre nella serie Horizon è disponibile la variante HZB in cui i fusti sono anziché essere completamente in strati di tiglio sono in strati di tiglio e betulla e le finiture sono trasparenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti